Ciao a tutti, rispondiamo a una domanda molto frequente in internet che è come mai il mio cane cammina, ogni tanto si ferma e si gratta il sedere? E mentre cammina si gratta il sedere. Questo movimento perché lo fa? Che cos'è? Come mai si gratta così tanto il sedere? Allora, fondamentalmente nel 99% dei casi, poi prendete sempre tutto con le lettere perché quando vedete qualcosa di strano è necessario che lo fate vedere al vostro medico veterinario di fiducia, di solito questo movimento che fanno di schiacciarsi il sedere mentre camminano è un movimento legato al fatto che cercano di svuotarsi i sacchi anali perché sono pieni, se li sentono pieni quindi schiacciando il sedere al terreno cercano di svuotare il segreto di sacchi anali. Ho fatto un video sui sacchi anali nel mio canale quindi vi consiglio di andare a vederlo e fondamentalmente questo tipo di movimento quindi proprio vedete proprio che cerca di schiacciare il sedere sul pavimento mentre cammina per cercare di eliminare questo segreto, si sentono pieno questo segreto che di solito è liquido nella maggior parte delle volte e che di solito viene eliminato attraverso la defecazione. In quei casi li se lo sentono pieno quindi schiacciano, se vedete il vostro cane fare questo tipo di movimento portatelo dal vostro medico veterinario che verificherà se sono così piene e fondamentalmente verificherà anche la consistenza perché a volte non riescono a eliminare il segreto perché il segreto ha una consistenza più simile diciamo alla nutella, ci ringrazierà ferrero per questo paragone però fondamentalmente simile a nutella e quindi non riesce a uscire, va a tappare diciamo il canalino dove deve uscire questo segreto e quindi il cane fa questo movimento ma a volte lo fa anche nella normalità perché facendo questo movimento potete vedere fare questo tipo di movimento e il giorno dopo non farlo più perché si è riuscito a svuotare i sacchi anali e quindi eliminare il liquido quindi è una cosa abbastanza frequente nei cani soprattutto di taglia piccola media però può capitare anche nei cani di grossa taglia. E' importante verificare chiaramente quindi se vedete questa cosa che il cane lo fa per diverso tempo cioè se lo vedete fa una volta no però se vedete che continua a farlo portatelo perché a volte questi sacchi anali possono andare incontro chiaramente infezione poi quindi formare l'ascesso lì è doloroso per il cane mentre invece il movimento proprio di schiacciarsi sedere mentre camminano al terreno quello è un movimento fisiologico quando i sacchi sono pieni quindi può essere che voi lo vedete un giorno e il giorno dopo non lo vedete più e poi non lo vedete più finché poi si riempie di nuovo di segreto in quel caso lì è abbastanza fisiologico perché cerca di eliminare il il sacco poi è chiaro ripeto se vedete questa cosa e non vi convince portate al medico veterinario proprio perché magari c'è qualcos'altro che gli dà fastidio in generale questo tipo di movimento è legato di solito al fatto che i sacchi anali sono repleti di materiale liquido che serve che serviva e serve tuttora ai cani e ai lupi per marcare il territorio durante la defecazione durante la defecazione parte di questo liquido esce questo liquido è molto maleodorante quindi lo sentono a distanza e sanno che lì è passato un cane quindi il lupo che non fa parte del gruppo cerca di non passare in quella zona fondamentalmente serve a questo e nei i nostri cani soprattutto ripeto i piccoli grande taglia questi sacchi non vengono eliminati a sufficienza molto spesso a causa della defecazione che non ha una grandissima forza e quindi fondamentalmente può capitare di avere delle patologie correlate al sacco anale repleto perché questo sacco poi può infettarsi lì abbiamo il retto che non è sicuramente la zona più pulita del mondo e dal punto di vista batteriologico e quindi può infettare il sacco e quindi può dare ascesso e poi fistola anale quindi il movimento ripeto di schiacciarsi il sedere a terra mentre camminano è quello fondamentalmente di cercare di svuotare questi sacchi perché se li sentono pieni quindi se vedete che lo fa e poi non lo fa più non c'è bisogno di correre se vedete invece che continua a farlo portatelo perché magari non riesce a svuotarsi sacchi perché il materiale è molto più denso ripeto simile alla nutella e quindi fondamentalmente non riesce quindi c'è necessità magari di svuotarlo manualmente spero questo video vi sia piaciuto ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao